Ma poi va, questa volta, chi senti? Gianni Schicchi, ruolo straordinario in cui c'è veramente da divertirsi e da sfoggiare un po' la summa di tutto quello che è stata la comedia dell'arte, l'opera buffa in sé per sé, un'opera comica, abbastanza grottesca, di grande divertimento in cui si sorride parecchio e di una modernità incredibile. Io sono zitta, la vecchia, chiaramente è falsità. Venite al Teatro del Maggio, giorni 15, 17, 20 e 23, non mancate perché vi veniamo a prendere. Assolutamente.